Musica Il museo della civiltà contadina arriva a Fico con un allestimento permanente che accoglie i visitatori in uno spazio di circa 2000 metri quadri suddivisi in quattro sezioni grano, canapa, vite, riso Come già accaduto in occasione di Expo 2015, l'esposizione racconta la storia dell'agricoltura e del lavoro contadino creando un collegamento con il passato Al centro ci sono la terra, il lavoro, l'ingegno dell'uomo Questa è il primo motore che entra nell'agricoltura italiana Non svolte nessun lavoro in particolare se non quello di dare il movimento alle macchine operatrici Con quella cinghia di trasmissione che vedete lì, la macchina a vapore dava questo movimento Basta avere acqua e combustibile, parte e va, per giorni interi senza perno Basta avere acqua e combustibile, parte e va, per giorni interi senza perno Basta avere acqua e combustibile, parte e va, per giorni interi senza perno